Musica Avrebbe maltrattato i piccoli pazienti, sospeso un logopedista a Milazzo. Banca rotta fraudolenta, reati tributari, autoriciclaggio, sequestrate 5 aziende e centri commerciali cinesi a Palermo. Sabato prossimo a Monreale la chiusura dell'anno del Parlamento della Legalità Internazionale. Buonasera, bentrovati alla seconda edizione di Media News di giovedì 20 giugno. Avrebbe preso a schiaffi e strattonato i piccoli pazienti, mentre in altre occasioni li avrebbe lasciati a se stessi disinteressando. Se ne è accaduto a Milazzo dove un logopedista è stato sospeso dal pubblico servizio per 10 mesi. Vediamo. Avrebbe maltrattato i piccoli pazienti che gli venivano affidati per la terapia con schiaffi e strattonamenti oppure si sarebbe disinteressato completamente di loro lasciandoli a se stessi. Con queste gravi accuse un logopedista di 51 anni che lavorava a Milazzo è stato sospeso dal servizio per 10 mesi. Il provvedimento cautelare è stato eseguito dal personale del commissariato di polizia di Milazzo ed emesso dal tribunale del riesame di Messina. I poliziotti già nello scorso novembre avevano avviato delle indagini su input dei genitori dei diversi piccoli pazienti del logopedista che avevano notato alcune anomalie nei comportamenti dei bambini proprio quando dovevano portarli a svolgere la terapia. Alcuni bimbi avevano manifestato un atteggiamento di assoluta ritrosia ad effettuare le terapie con l'indagato chiudendosi in un mutismo anomalo. I dubbi dei genitori si sono poi mostrati fondati in seguito alle indagini condotte anche con intercettazioni ambientali che mostravano condotte brutali del logopedista nei confronti dei piccoli assistiti affetti da gravissime patologie cognitive tra cui autismo e sindrome di Down e dunque incapaci di reagire. Schiaffi, strattonamenti, abbandono a se stessi dei pazienti, disinteresse nei loro confronti ed assenza di terapia erano le regole secondo quanto appurato nelle indagini che hanno messo in evidenza la totale assenza di professionalità e la esclusiva dedizione alle proprie faccende personali durante l'ora in cui avrebbe dovuto invece praticare la necessaria terapia. L'indagato nel corso delle sedute pare fosse solito guardare costantemente il proprio cellulare scattandosi anche delle foto, confezionarsi delle sigarette, guardare video su siti e social network disinteressandosi totalmente dei bambini. In alcune occasioni addirittura avviato ad inizio seduta un filmato della fiction Il commissario Montalbano e una puntata del cartone animato per bambini Masce e Orso lasciando abbandonati a se stessi i piccoli rimasti a guardare il monitor. E adesso parliamo degli esami di maturità, oggi la seconda prova mista Tacito e Plutarco al liceo classico. Esami di maturità, studenti oggi alle prese con la seconda prova diversa per i vari indirizzi di studio latino e greco per i licei classici, una prova mista di matematica e fisica per i licei scientifici. Al classico sono Tacito e Plutarco gli autori della seconda prova, la versione di latino e il testo greco trattano della figura dell'imperatore romano Galba, la prima è tratta da istorie di Tacito e il secondo da vita di Galba di Plutarco, le vite parallele. Per lo scientifico la struttura della prova prevede la soluzione di un problema scelta del candidato tra due proposte e la risposta a quattro quesiti tra otto proposti. Il compito di fisica proposto ai maturandi prevede un problema da risolvere su un condensatore. La seconda prova riguarda complessivamente le due discipline caratterizzanti, matematica e fisica. Dall'autoritratto al selfie invece la traccia proposta ai maturandi dell'artistico indirizzo arti figurative, plastico, scultoreo. Nei giorni delle prove scritte è confermato il divieto tassativo per i candidati di utilizzare cellulari, smartphone, pc e qualsiasi altra apparecchiatura elettronica in grado di accedere alla rete o riprodurre file e immagini, pena l'esclusione dall'esame. Le commissioni d'esame coinvolte quest'anno sono 13.161 per 26.188 classi. I candidati iscritti alla maturità sono 520.263, di cui 152.607 interni e 17.656 esterni. In Sicilia i maturandi sono 47.700. Banca rotta fraudolenta, reati tributari e autoriciclaggio, sequestrate 5 aziende e centri commerciali cinesi a Palermo e provincia per un valore di 8 milioni di euro, 7 indagati. Le indagini affidate alle fiamme gialle palermitane sono scattate a seguito del fallimento di una nota catena operante nel settore dell'abbigliamento e altri prodotti non alimentari con sede a bagheria gestita e posseduta da una famiglia di origine cinese che aveva prodotto nel tempo un volume di fatturato pari a diversi milioni di euro. Due imprenditori cinesi, un uomo e una donna, titolari di una catena di centri commerciali in Sicilia, sono adesso indagati per banca rotta fraudolenta, autoriciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. I finanzieri hanno ricostruito la galassia societaria facente capo ai due proprietari dell'impresa fallita che attraverso sistematiche e pianificate distrazioni patrimoniali avrebbero accompagnato al fallimento della società originaria per sottrarsi al pagamento dei debiti maturati nel tempo nei confronti di fornitori, dell'erario e di alcuni dipendenti, schermando la proprietà dei beni attraverso la creazione di nuove società. Il sequestro preventivo è stato disposto con urgenza dalla procura di Termini Merese. Questa mattina è scattato il sequestro di sette centri commerciali, quattro sono a Palermo, in via Ugola Malfa, via Generale di Maria, via Iaccia a Mondello e via Villa Grazia all'interno del centro Guadagna. Un altro centro è a Bagheria sulla statale 113, un altro a Siracusa in via Columba, un impero che vale 8 milioni di euro distribuito in 5 società. Irfis, Invitalia e Confcommercio hanno incontrato i giovani che vogliono fare imprese in Sicilia. Presente Massimo Calzoni, coordinatore dei servizi per l'imprenditorialità di Invitalia. Invitalia offre questo incontro rivolto ai giovani imprenditori, alle piccole e medie imprese. Siamo veramente onorati di essere presenti qui a questo evento, poi molto partecipato, il che non può che farci piacere visto che questa numerosità testimonia effettivamente una fame che c'è in Sicilia per fare della buona impresa, dell'impresa che non si limiti solo a masticare nutrimenti di natura finanziaria, ma imprese che in realtà sono oggi più che mai consapevoli che c'è un'offerta da parte di diversi operatori, non soltanto di Invitalia, l'agenzia di sviluppo del paese, ma anche di Irfis, così come di altri player, c'è un'offerta rappresentata da servizi ad alto valore aggiunto. Supportiamo con degli interventi di natura metodologica, con gli esperti dell'agenzia in maniera concreta, che si trova nella fase del cosiddetto chilometro zero, cioè nella fase antecedente alla presentazione della propria proposta progettuale. Aiutiamo attraverso incontri one to one, incontri durante i quali cerchiamo di discutere assieme in totale trasparenza di quelle che sono le scelte e i contenuti di ciascun aspetto progettuale che caratterizza il piano d'impresa. Questi momenti di confronto e di contaminazione per noi sono fondamentali, sono fondamentali anche per le start-up, perché ogni giorno facciamo sì che queste start-up possano unirsi anche alle aziende mature per cercare di scalare, per avere anche parte di questa seniority importantissima per andare al mercato. A Palazzo dei Normanni, nella sala Piersanti Mattarella, si è tenuta la seconda seduta di consiglio dell'Assemblea della Consulta Regionale Giovanile. Vediamo. Oggi si è tenuta la seconda riunione di consiglio dell'Assemblea delle Consulte Regionali Giovanili. Abbiamo parlato di vari temi per quanto riguarda il tema del lavoro, per quanto riguarda il tema del turismo, del plastic free. È un tema anche dell'ambiente, perché l'ambiente è un tema nodale per la sopravvivenza del nostro pianeta. Si parlava anche del fatto che prossimamente arriverà questo DDL in commissione per condurre l'iterlegis all'approvazione e all'istituzione ufficiale di questa consulta. Esatto. Attendiamo con grande fervore questo DDL che dopo la pausa estiva verrà, speriamo, istituito nel più breve tempo possibile entro giugno. È stata una giornata molto proficua in quanto siamo riusciti a coinvolgere tramite la presidentessa della consulta di Bolognetta Cristina Di Fresco anche il sindaco Gaetano Grassadonia che ci ha illustrato un po' il percorso che egli come presidente aveva compiuto all'interno del coordinamento provinciale delle consulte in provincia di Palermo. Siamo orgogliosi del loro ingresso nell'Assemblea delle Consulte Siciliane. Coinvolgere i giovani e farli aderire ad un progetto nuovo, innovativo che vede finalmente i giovani protagonisti all'interno dell'Assemblea regionale siciliana, è il nostro primo obiettivo e siamo sicuri che in breve tempo otterremo ottimi risultati. Ruoli che si possono ricoprire all'interno delle consulte. Mettiamoli da parte, mettiamo da parte le etichette, mettiamo da parte i distintivi e cominciamo a mettere accanto alle buone idee anche dei buoni esempi, valori che purtroppo per un anno si stanno perdendo. È stato presentato il Palermo Pride 2019 tra incontri, concerti, mostre, performance e tante le novità di quest'anno a partire dal corteo che avrà luogo venerdì 28 giugno. Lo slogan dell'edizione 2019 è favolosamente antifascista. Presentato il Palermo Pride 2019 tra incontri, concerti, mostre e performance, l'onda Pride si ferma al centro di Palermo dove all'insegna del divertimento e della marcia per i diritti si crea per il decimo anno un monumentale corteo venerdì 28 giugno al quale prenderanno parte migliaia di persone, 50.000 nel 2018, che quest'anno è vissuto dal coordinamento Palermo Pride sotto il segno di una storica rivolta che 50 anni fa diede una scossa alle coscienze e il primo soffio di vita al movimento di liberazione omosessuale fuori da un bar di New York. In onore di questa importante ricorrenza il direttivo di coordinamento Palermo Pride ha scelto come slogan 2019 Tacchi e Martello, la rivoluzione in movimento, uno slogan che si divide tra l'omaggio a quella rivoluzione e l'irriverente sberleffo al maschilismo ancora oggi presente allo stesso movimento LGBT, oggi apparentemente assopito. Il Pride quest'anno gode del madrinato della direttrice del Teatro Biondo di Palermo e non arcobaleno Pamela Villoresi e dell'attivista Vanni Piccolo, fondatore del circolo di cultura omosessuale Mario Mieli nel 1983. Novità di quest'anno è il corteo. Con la presenza dell'AMPI, associazione nazionale partigiani italiani che con le proprie bandiere intende stare e restare come sempre accanto a chi lotta per i diritti e la dignità umana, si svolgerà per la prima volta di venerdì e non di sabato. Inedito anche il percorso, dopo il concentramento alle 16 all'inizio di via Roma alla Tostazione, la partenza sarà alle 18 con l'arrivo ai cantieri culturali della Zisa dove a un momento politico sul palco seguirà la serata ufficiale di festa del Palermo Pride, con il concerto di Romina Falconi e una giostra di DJ. Tanti anche gli eventi collaterali del Palermo Pride, tutti a ingresso gratuito. Si parte proprio oggi alla chiesa anglicana Holy Cross di Via Mariano Stabile con la presentazione di In Cammino tra fede e omosessualità, libro di Nicola Di Polito. Anni fa una mia anziana amica, convinta della sua storica compagna, partecipò al Gay Pride, racconta Pamela Villoresi, direttrice del Biondo. Torno a casa felice per la prima volta nella mia vita, disse, ho attraversato la città senza fingermi altro, orgogliosa di me e del mio amore. È stato meraviglioso. Io sono una nonna che per la legge non esiste, sono una nonna arcobaleno e sono orgogliosa della mia nipotina, di mia figlia e della sua compagna, insomma della mia famiglia. Non posso non essere qui. Domani alle ore 21 al Teatro di Verdura di Palermo andrà in scena Benin City Palermo, la sfida del coraggio, spettacolo di beneficenza organizzato dal Consolato Onorario della Repubblica di Capoverde. L'intero ricavato sarà devoluto all'Associazione Donne di Benin City, costituita nel 2015 a Palermo da donne nigeriane, ex vittime di tratta della prostituzione dopo l'ennesimo omicidio di una di loro. Sono l'autrice del monologo che aprirà le porte a questo grande spettacolo. Sarà un viaggio, inizierà appunto con questo monologo che racconta il viaggio di questo cuore, del cuore di questa donna che poi si spezzerà durante questo viaggio ma alla fine troverà la forza per ricominciare perché è quella la parte più importante, la forza di risalire e risolvere qualunque problema. Continuerà poi con uno spettacolo di danza. Anche questo è un viaggio ma non attraverso le parole, bensì attraverso le contrazioni, attraverso i gesti. Stiamo cercando di dar voce al fenomeno della tratta delle nigeriane appunto per cercare di fare una grande cosa attraverso quello che ognuno di noi può dare, quindi attraverso la scrittura, attraverso la danza. Alla fine questo spettacolo si concluderà appunto con la visione di un bellissimo cortometraggio, si intitola Parrocutia e parla di magia. La magia nostra però, la magia siciliana che chiaramente trova dei collegamenti con la magia nera che tiene prigioniere queste donne. Quindi è la storia della schiavitù, la storia della prigionia. È importante che ognuno di noi dia un piccolo contributo perché la schiavitù è la mancanza di libertà, tiene prigioniere le anime di queste donne. Stiamo cercando di dar voce a quello che non si può dire. Ecco, questo sarà il nostro contributo. Sabato prossimo al Giardino degli Aranci di Monreale ci sarà l'incontro a chiusura dell'anno del Parlamento della Legalità Internazionale. Tra gli ospiti anche una delegazione dal Cairo, il prete antica morra Don Luigi Merola e la comunità foggiana di Bovino. È stato un anno stupendo, meraviglioso. Abbiamo girato l'Italia lungo e largo. Abbiamo coinvolto centinaia di studenti. È stata un'esperienza stupenda e adesso ci accingiamo, ecco sabato 22 giugno alle ore 18, a chiudere i battenti ma per fare una chiacchierata, come dice lo slogan, incontriamoci in amicizia. Abbiamo una meravigliosa delegazione che arriva dal Cairo e guidata dal nostro amico Basem, che è il presidente della comunità egiziana con delega agli affari esteri, verrà con una delegazione di sette persone che arriveranno dal Cairo. Sarà con noi Don Luigi Merola, definito dalla stampa, il prete antica morra, ma lui è semplicemente un prete che crede fortemente nella forza del Vangelo. E poi verranno anche l'amministrazione comunale del comune di Bovino, guidata dal sindaco con il maresciallo e tanti amministratori. Verranno da Palma di Montechiaro, verranno da tutte le parti della Sicilia, verranno anche dalle altre regioni d'Italia. Sarà una festa. Dopo questo incontro del 22 giugno, noi il 29 giugno saremo presso la moschea dell'imam di Verona, dove il Parlamento della Legalità, semplicemente bussando al cuore delle altre religioni, farà, darà vita all'ambasciata dell'amicizia e del dialogo. Ed è, guardate, è emozionante poterlo dire da questi microfoni, che il 29 giugno alle ore 10.30, presso la moschea di Verona, la fede islamica, quindi i musulmani, gli ortodossi, gli ebrei, i cristiani e i buddisti, si troveranno a essere un cuor solo, un'anima sola, perché insieme con queste cinque religioni firmeremo l'ambasciata dell'amicizia e del dialogo. Penso che questa sia la cosa più bella che potevamo fare, perché se siamo realmente interconfessionali e interreligiosi, ecco la prova, se siamo oltre i confini dell'Italia, benvenuta alla delegazione dell'Egitto. Allo spasimo a Palermo è stato presentato lo spettacolo dedicato al sacerdote missionario Giovan Battista Sidotti, martirizzato in Giappone nel 1715. La mia idea era quella che partendo da questo confronto di due personaggi legati a due culture così profondamente diverse, si potesse tentare un dialogo culturale su vari piani. Da una parte ecco il dialogo religioso e teologico che fanno appunto Sidotti e Darai, e un altro un confronto intellettuale e culturale mettendo a confronto due modelli teatrali come possono essere il teatro kabuki e le forme di teatro orientale, di danza orientale, di musica orientale, e dall'altra parte una forma di teatro più occidentalizzato come la commedia dell'arte, la musica barocca, la musica sacra, seicentesca, spagnola, in una specie di dialogo immaginario, un'armonia delle due culture che dialogano e si confrontano nelle diverse forme. È stata una sorpresa per me perché è la prima volta che affronto un personaggio religioso che ha rischiato, ha messo a repentaglio la sua vita per una fede, e quindi entrare nella mentalità di queste persone che abbandonavano tutto accettando qualsiasi tipo di sacrificio in nome di una fede è stato un po' difficile entrare perché le parole che lui dice anche per controbattere le teorie dello shogun o di quelli che lo accusavano di fare proselitismo sembravano parole così, sembrano quasi delle preghiere ripetute, invece dietro c'era veramente la ricerca di qualche cosa che lo aiutasse a, non a convincere, credo che la sua, più che l'opera di convincimento si tratta di abbia voluto fare un'opera di fede, cioè far capire alle altre persone che esiste una religione che non è soltanto quella shintoista, buddista, eccetera, ma stava nascendo questa religione che vedeva gli uomini tutti uguali. Ho incontrato quest'uomo che è vissuto 350 anni fa e che è stato una persona molto strana, un evento stranissimo perché me lo sono portato a dietro per 30 anni fino a oggi, era come se fosse nascosto da qualche parte che aspettasse qualcuno per ritornare alla memoria di tutti. Quando poesia e musica si incontrano è l'appuntamento culturale promosso presso la libreria Tante Storie di Palermo, presentata la raccolta di poesie di Elena Saviano. Perché la poesia tocca le corde dell'anima e attraverso l'anima si torna indietro con i ricordi, con il pensiero e attraverso il pensiero naturalmente ricordiamo anche la nostra storia, e la storia che ci circonda. Le mie poesie sono fatte appunto di sociale, di amore, di solidarietà, di natura. Il libro Apis infatti è un libro interamente dedicato alla natura in versi e che apre la trilogia dedicata appositamente a questo nostro pianeta, sotto ogni punto di vista. Il suo pubblico di spettatori è fatto da adulti ma anche di giovani? Sì, tantissimi giovani, ma questo dal primo momento in cui io ho realizzato una manifestazione a Palermo. Ho avuto il piacere di avere a che fare con scolaresche, con artisti di ogni genere e con gente assolutamente comune che dopo una giornata di faticoso lavoro si vuole regalare un pomeriggio culturale. Ci troviamo qua per abbracciarci tra l'arte della musica e della poesia. Io promuoverò il mio primo CD intitolato Identità. Devo dire che nei sogni, se ci credi, riesci a realizzarli. Devi crederci molto. La realizzazione di un'opera artistica fa parte dell'anima e della vibrazione che quell'anima rappresenta. All'Istituto Gonzaga di Palermo la premiazione del ventesimo torneo di calcio giovanile Ninni Cassarà. È concluso oggi il torneo Cassarà, ha visto partecipare veramente tantissimi bambini. È una bella possibilità quella di ospitare tanti giovani e tanti bambini per un'iniziativa che ricorda una figura importante, la Cassarà e che appunto ripropone dei valori forti per la nostra società oggi. Credo fondamentalmente che lo sport sia uno strumento importantissimo per la formazione dei bambini e dei ragazzi e per ribadire che ci sono valori forti, valori belli come quelli per cui ha dato la vita Cassarà. Quando una persona come mio fratello e come tanti altri perdono la vita non si riesce a trovare un significato, una motivazione. Il fatto che venga ricordato e che poi da questi bambini potranno nascere dei cittadini più sensibili, più onesti, con senso civico, speriamo che serva a qualche cosa come questa. Anche quest'anno è andata veramente benissimo, la partecipazione massiccia circa 200 squadre dalle categorie dal 2012 al 2006. Siamo gli organizzatori del torneo e dico che è sempre un piacere parteciparvi, è un'emozione vedere in giro tutti questi bambini divertirsi, quello è lo spirito, ci siamo riusciti spero alla grande, spero che si sono divertiti tutti i bambini. È un momento di festa, devo dire che il torneo è stato combattuto, bello in sede dal punto di vista calcistico, ma soprattutto è stato un torneo corretto su ogni livello, quindi di questo possiamo solo che essere felici, ringraziare gli istruttori, ringraziare le società e soprattutto la collaborazione dei genitori. Per noi era un momento importante, per la nostra scuola calcio, era il ventennale del torneo, appunto il ricordo di Cassarà, e devo dire che siamo stanchi ma estremamente soddisfatti. Ecco ragazzi, non abbiate mai paura di schierarvi dalla parte giusta, in questa città che ci siano bimbi come voi, che hanno chiaro, grazie ad una struttura come questa, come vivere le loro vite, e da che parte schierarsi ogni giorno è una cosa bellissima. È tutto, grazie per l'attenzione, come sempre vi do appuntamento ai prossimi notiziari di Media News. Grazie a tutti.